Sì Astok, ciao a tutti. Inizio il nuovo anno parlando di quella che è di fatto la più grossa batosta mai ricevuta dall'Unione Europea, la Brexit. L'accordo per il definitivo divorzio della Gran Bretagna dall'UE è stato approvato anche dalla Camera dei Comuni Inglesi, dopo le firme di Ursula von der Leyen e Charles Michel. I medi allineati puntano i riflettori su Boris Johnson, pochissimo per niente sul grande vincitore. L'accordo non è proprio quello che volevano gli inglesi pro Brexit, ma è un grande passo per recuperare la sovranità nazionale, come dice Nigel Farage. La sua è stata una battaglia lunga decenni, una vita, che ha conquistato il voto della maggioranza dei cittadini. Il patto della vigilia di Natale scontenta la famiglia Soros, infatti Alexander in passato su Twitter ha già previsto la fine del Regno Unito, un'Irlanda unita e una Scozia indipendente, il cui primo ministro Nicola Sturgeon recentemente ha già dichiarato «torneremo presto in Europa». Soros Giorgio ha speso più di 3 milioni di sterline nella campagna anti-Brexit, guidata dal laburista e membro della Open Society Mark Mallock-Brown. Un rapido ringraziamento a Blendy Cumi e Susanna per le donazioni al canale. Ti propongo un pezzo d'opinione ungherese sulla Brexit e la lezione conservatrice ad una Europa che ancora cerca di consumare la sovranità nazionale dei popoli. L'articolo opinione di Modior Hirlop è di Uri Morion, titolo «Il monito della Thatcher». Che cosa ha imparato l'UE dalla Brexit? La risposta è semplice, nulla. I vertici dell'UE hanno avuto 4 anni per trarre le conclusioni, ragionare sul fatto che la maggioranza degli inglesi fosse insoddisfatta per usare un eufemismo, della cosiddetta «comunità continentale». Le elezioni referendum democratici che hanno visto la vittoria della Brexit sono state viste dai neoliberali come un attacco, uno schiaffo all'elite a capo dell'Unione. Secondo questa, il volere del popolo deve essere preso in considerazione, solo se segue il suo interesse. In caso contrario, le decisioni importanti non devono essere lasciate alle persone comuni. L'elite sa cosa è giusto per il popolo. Nell'elite neoliberale, quelli che non se la sono presa con gli elettori inglesi hanno cercato delle fantomatiche forze oscure dietro alla Brexit, i russi o forse i malvagi populisti che hanno lavato il cervello delle persone. È solo un dettaglio da poco che Soros Djerdi, il filantropo, abbia speso un patrimonio per la campagna dei Remainers contro l'uscita dall'UE e anche per cercare di far ripetere il referendum. Non è praticamente più possibile per Bruxelles scavalcare la sovranità nazionale inglese, togliere indipendenza al popolo, centralizzando le decisioni. Lui ha avuto tempo per dialogare con chi voleva uscire ma non l'ha fatto per evitare doppi standard tra stati membri, cioè non ha concesso nulla. Un'Europa rigida e intransigente, non però con chi si allinea all'asse franco-tedesco. Margaret Thatcher nel suo discorso di Bruges del 1988 disse, ha detto, l'Europa non è stata creata con il Trattato di Roma, l'anima europea non è proprietà esclusiva di nessun gruppo-organizzazione. Ogni Stato membro possiede proprie tradizioni e aspirazioni che devono essere preservate e che vanno, se unite, a costruire l'identità europea. La Comunità europea è una manifestazione, una rappresentazione dell'identità europea, ma non è l'unica. La Comunità europea non deve essere uno strumento istituzionale, da modificare continuamente sulla scia di principi astratti e da snaturare con regolamenti infiniti. La Thatcher rifiutava l'idea di un super stato di Bruxelles, considerava estremamente negativo quel progetto, che mira ancora oggi a schiacciare la sovranità nazionale e a concentrare il potere. Così ha detto, disse, l'Europa sarà più forte se la Francia, la Spagna e il Regno Unito, eccetera, rimangono loro stessi, con le proprie tradizioni, usi ed identità. 32 anni dopo è facile capire perché gli inglesi hanno detto basta all'Europa. È utile citare un'altra Brexit. I conservatori inglesi, i cosiddetti Tories, già nel 2009 avevano abbandonato i popolari europei, il PPE. Dalle parole del capogruppo dei popolari di oggi emerge chiaramente qual è il problema del partito. Manfred Weber ha duramente attaccato per esempio Orban Victor, il primo ministro ungherese, perché, lo cito, per il primo ministro ungherese il compromesso, la coalizione con i socialdemocratici e i liberali in Europa è un tradimento dei valori conservatori cristiano-democratici. È tempo che Weber, così come la CDU, eccetera, riconoscano che i liberali di sinistra non considerano l'alleanza col PPE un modo per avvicinarsi alle posizioni conservatrici. La coalizione è per loro il segno che i popolari continuano ad indebolirsi alle urne, sempre meno forti e con una identità meno definita. Dunque lui non ha imparato proprio nulla dalla Brexit. Purtroppo il fronte sovranista in Europa ha perso un importante capo politico con questa batosta. Non c'è più Nigel Farage, il Brexit Parling. Le nazioni dell'Unione devono comunque continuare a combattere per la propria sovranità. L'UE può essere forte solo se basata su nazioni forti e definite nella loro identità. Se apprezzate questo tipo di contenuti ricordatevi che potete sostenere il canale nei modi indicati in descrizioni. Vislat, arrivederci.